Dove si va oggi? A driftare. Dove? Ma io andrei vicino a un punto altamente pericoloso come dove c'è stato il primo caso di Covid in Italia, vicino a Codogno. Andiamo lì. Guarda le qualifiche qua dietro, non si molla mai. Siamo finalmente arrivati, adesso ho un po' di meritato riposo, proviamo ad andare già a vedere dove è il circuito e poi domattina saremo i primi in turno. Però? Sì, sì. Se non ci prendiamo troppo sì. Benissimo. E questa è la stanza dove succederanno le cose questa notte. Ragazzoni, buonanotte. Oggi è il gran giorno. Buon anno. 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 Andiamo ancora a togliere il tappino così il freno a mano è libero. E siamo pronti. Ah, santa madre, che agitazione. Buon anno. Buon anno. Sì, abbiamo fatto il primo giretto giusto da capire un attimino la pista com'è, la pista è fantastica e questa è la situazione della gomma dopo il primo turno è una gomma da moto, come dice il buon Marco è una gomma da moto Grazie a tutti. Ho tirato fuori tutti questi spaghetti dalla dentro che si era tutto torcigliato intorno al fusello, ma da questo lato, mamma mia, eppure peggio. E siamo due. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.